16 appuntamenti, 16 scultori già all'opera nelle loro postazioni in plein air, incontri, laboratori, cinema, fotografie, esposizioni e musica. Fino al 13 novembre Belluno sarà la Città del Legno, un festival che nasce sospinto dall'esperienza ultratrentennale dell'ex tempore di scultura e dalle immagini evocate dall'odore di cirmolo che da oggi pervade tutto il centro cittadino. Un festival del territorio su uno dei pochi, forse l'unico argomento di qualità che ha la nostra terra in legno. Un'intuizione ambiziosa quella del consorzio Belluno Centro che parte dal suo gioiello, l'ex tempore appunto, per aprire le porte a iniziative culturali e artistiche in un cartellone che quotidianamente offrirà ai bellunesi e ai visitatori nuove opportunità di confronto con una risorsa che è fonte di sviluppo della provincia. Noi vorremmo che l'iniziativa fosse che importasse nei confini provinciali delle attenzioni da parte del mondo della cultura e dell'economia perché i festival possono fare crescere il territorio. Vorremmo che a Belluno si respirasse legno non soltanto nel periodo di San Martino. L'ex tempore come di consueto si concluderà domenica prossima con l'assegnazione dei premi delle giurie tecniche, confindustria, stampa e fidapa l'8 novembre al comunale lo spettacolo I segreti del Bosco Vecchio tratto dall'opera di Dino Buzzati il 12 novembre sullo stesso palcoscenico il concerto di Davide Vandesfros